21 maggio 2000. Muore Sir John Gilgood, uno dei più grandi attori shakespeariani. Era nato il 14 aprile 1904 a Londra. Attore, produttore e regista, considerato uno dei più grandi interpreti della sua generazione sul palco e sullo schermo. Dal 1953 fu insignito del titolo di Baronetto. Esordì ancora adolescente nella compagnia dell'Old Vic, la più prestigiosa. Celebri le interpretazioni di grandi personaggi creati da William Shakespeare, Romeo, Amleto, Macbeth, Ray Lear. Particolarmente esaltante, secondo i critici, il suo Riccardo II, in cui fu regista di se stesso. Leggendaria la versatilità della voce, profonda e sempre perfettamente controllata. Nel 1959 accettò una tournée per portare in tutto il mondo un recital di monologhi classici e fu un trionfo. Richiesto dalle produzioni hollywoodiane accettò poche selezionate parti, Murder on the Orient Express, The Elephant Man, Gandhi e Arthur, che gli valse premio Oscar come miglior attore non protagonista. Le memorie della sua vita artistica sono affidate a diversi volumi, pubblicati negli anni 80 e 90 e sempre ristampati. Grazie a tutti.